Un appello forte al Presidente Marsiglio, all'assessore regionale, alla sanità di fare presto e fare subito perché la sanità, i nostri cittadini meritano di più. Questa sanità non la vogliamo. Oltre 10.000 prestazioni sanitarie sospese causa Covid e non riprogrammate. Carenza di medici, operatori sociosanitari non reintegrati e lunghe file d'attesa sono criticità irrisolte all'ospedale di Pescara. Le problematiche, dice il Vicepresidente del Consiglio regionale, Pettinari, dipendono anche da una medicina territoriale che non funziona. Partiamo dall'ingolfamento del prono soccorso, prono soccorso che non riceve quasi più completamente incolfato perché mancano medici, mancano medici e noi abbiamo dato la soluzione perché nessun medico vuole andare in prono soccorso e li capiamo, ma bisogna incentivarli di più economicamente, quindi Regione Abruzzo che governa la sanità dovrebbe incentivarli di più, prevedere premialità curriculari, utilizzare l'istituto del precetto per spostare in caso di emergenza e far ruotare i medici di altri reparti in prono soccorso e soprattutto utilizzare anche i medici che hanno dato ampia disponibilità per le esigenze aziendali assunti per l'emergenza Covid. Ma ci sono altre concause che fanno scoppiare il prono soccorso. Intanto una medicina territoriale che non funziona perché ci sono tanti accessi inappropriati, i codici verdi e i codici bianchi non dovrebbero entrare in prono soccorso, dovrebbero essere trattati dalla medicina territoriale. Se funzionasse però i distretti sanitari non funzionano bene, sono stati anch'essi depotenziati e declassati. Abbiamo addirittura tante apparecchiature obsolete. Una sanità lenta anche nel resto della provincia. Il depotenziamento degli ospedali di penne e popoli costringe molti cittadini delle aree interne a doversi servire del nosocomio pescarese per potersi curare. Questo, sostiene Pettinari, ha generato una situazione catastrofica. Non funzionando più l'ospedale di penne e popoli come dovrebbero, tanti cittadini delle comunità dell'area vestita della Val Pescara sono costretti ad andare a pescare e Pescara non riesce più a servire e quindi ci sono situazioni catastrofiche.